Effettivamente la cosa che evidenziavi di questo rapporto tra norme e risultati è fondamentale. Il nostro problema, credo, in Italia in genere, non solo in Val d'Aosta ma in tutto l'arco alpino, ma in genere nel nostro paese, è che le norme non sono fatte per costruire qualcosa ma per evitare che qualcuno costruisca in modo non adeguato. E quindi con questa idea di cercare di guidare un percorso e di arginare delle forze che vanno in direzioni incontrollabili di fatto castriamo qualsiasi possibilità invece di creare qualcosa di vero, di concreto e noi i tecnici ci dobbiamo misurare con delle cose astruse spesso che quindi sembra quasi fare una sorta di esercizio matematico per riuscire a far incastrare tutte le richieste e a rispondere correttamente a tutte le richieste che ci vengono poste. Un amico che sta costruendo una casa in Austria mi raccontava pochi mesi fa che è andato in un ufficio tecnico di un paesino dell'Austria e quando ha parlato con il tecnico, il capo ufficio, che gli ha spiegato un po' quali erano le regole gli ha detto se vuole le faccio una fotocopia del regolamento edilizio mi mandi il file, un pdf, tanto ormai non è che... ma no guardi tanto è un foglio, quello ha appoggiato un a quattro e quello era il regolamento edilizio. Allora certo che se le norme tornano ad essere dei principi essenziali e poi lasciamo anche giustamente alla responsabilità di tecnici che progettano, di tecnici che valutano i progetti, la possibilità di avere quel minimo anche di soggettività nella valutazione, nelle proposte, allora forse percorriamo una strada giusta. Tra queste, tra le proposte che così vi butto anche come, propongo anche come soluzioni cioè non tanto una soluzione ma comunque qualcosa che può anche aiutare vedo che nelle nostre province Trento e Bolzano Bolzano ormai da 12 o 15 anni a Trento da 3 anni è stata istituita questa commissione dei saggi cosiddetta quindi una commissione per la tutela, il nome esatto non me lo ricordo però di fatto, per la tutela, la chiesa tonica e il paesaggio, valorizzazione insomma qualcosa del genere, ma al di là del nome la sostanza è che è una commissione facoltativa e che dà solamente un parere che non è vincolante a cui amministratori o anche singoli progettisti possono fare riferimento per avere una valutazione del proprio progetto quindi spesso quando si tratta di progetti un po' particolari un grande albergo, un edificio, un'infrastruttura un edificio che ha un impatto che anche le singole commissioni edilizie fanno fatica poi a valutare e giudicare ci si affida a questi tre saggi che normalmente sono tre persone ad esempio Armando Ruinelli è nella commissione di Bolzano ci si affida a questi soggetti che possono dare un parere e che soprattutto accompagnano anche il progettista e il committente perché è una cosa che viene fatta fin dall'inizio cioè non si porta un progetto finito ditemi che cosa ne pensate ma si inizia un percorso dicendo noi vorremmo fare un edificio in quell'area protetta, particolare come lo affrontiamo, noi vorremmo fare così e quindi questo percorso viene guidato questo è tra l'altro un parere consultivo quindi un'eventuale amministrazione pubblica commissione edilizia può anche disattendere al parere che viene dato però è sicuramente una cosa che rafforza che aiuta un percorso e che a volte anche supporta tecnici e amministratori che possono anche giustamente sentirsi impreparati di fronte a certi temi io trovo questo aspetto a cui hai fatto riferimento estremamente interessante in questo ambito il progettista, l'architetto quando si occupa, inizia a occupare di un progetto secondo me oltre che del confronto normativo del confronto con i tecnici e soprattutto ovviamente con il committente ha la necessità di un confronto diretto anche con qualcuno di veramente esperto perché non sempre l'intuizione che il singolo professionista ha è la soluzione vincente questo pensate ai concorsi di architettura per esempio con un concorso è possibile scegliere tra una moltitudine di progetti quindi il mio ragionamento è in questo senso se ho la possibilità soprattutto per progetti particolati e complessi di confrontarmi con un gruppo di persone che mi possa dare un indirizzo e attraverso questo confronto nasce probabilmente anzi quasi sicuramente una soluzione migliore di quella che avevo individuato inizialmente è una cosa dal mio punto di vista estremamente positiva Sì, sempre a questo proposito la necessità di avere facciamo l'esempio appunto dei comuni che si devono associare una commissione sovracomunale che gestisca l'ambito più vasto potrebbe già essere una modalità per migliorare il rapporto tra amministratori e tecnici poi è sempre più evidente sia da parte nostra amministratore che da parte del cittadino di avere un qualche tipo di stanza a cui riferirsi quando ci sono delle situazioni di tensione mi spiego la bocciatura di un progetto sì, ci saranno le norme ma la bocciatura di un progetto molte volte è di una casa appunto come intendiamo la casa nella nostra regione in Italia cioè nelle altre regioni d'Europa la casa ha un valore diverso di effettività la Maison come diciamo noi è anche un progetto di vita e quindi la bocciatura di un progetto ha delle influenze che vanno al di là di di tante cose ma hanno contemplano anche delle ricadute psicologiche non voglio esagerare però dietro la casa ci sono dei sogni magari dietro una finestra un'apertura vedere qualcosa c'è un sogno ho sempre visto quella montagna mi piace vederla non la puoi fare sì e quindi la necessità di avere un'istanza a cui riferirsi per avere consultiva mettiamola come vogliamo cioè ma che ci sia ecco il problema poi di fondo lo dico da amministratore è l'autorevolezza di questa commissione perché l'autorevolezza la capacità tecnica la professionalità parlo a un un uditorio che non ha bisogno di di specificare cos'è l'autorevolezza l'autorevolezza tecnica e qui ovviamente noi amministratori anche noi quando si parla di autorevolezza dobbiamo capire che qualche volta si devono fare dei passi indietro a favore dell'autorevolezza e mi fermo qui bene questo dialogo che abbiamo già iniziato tra di noi lo possiamo allargare la platea quindi se così per rendere anche un po' più dinamica la cosa avremo il tempo una mezz'oretta circa per qualche domanda lo so magari inviterei Claudin se puoi magari venire anche tu qui Armando Ruinelli purtroppo aveva un impegno e quindi è appena partito qualche domanda prego grazie rompo il ghiaccio io tanto mi presento perché la domanda più che una domanda che farò è legata alla mia esperienza io sono ho fatto l'architetto ho lavorato in regionale urbanistica poi all'ambiente ho fatto il tecnico degli enti locali e oggi mi trovo in una situazione di vedere tutte le pratiche edilizie per le attività produttive dei comuni della nostra regione come sportello unico enti locali condivido molto quanto ha detto Luciano quanto ha detto anche altri sul problema che il progetto oggi dovrebbe diventare lui la norma di se stesso nel senso il momento in cui poi dimostra che i requisiti prestazionali di quell'edificio quindi il benessere abitativo la sicurezza sono rispettati perché doversi piegare delle norme che poi sono applicate indistintamente a tutti i casi senza fare distinzione però devo anche dire per parlare per riportare un po' la sensazione di colleghi tecnici comunali che purtroppo oggi abbiamo anche tante autorità a cui dover rispondere e quindi forse è un po' un sistema generale che bisognerebbe rivedere al di là del fatto che a questo progetto oggi partecipano tanti organismi vigili del fuoco autorità sanitarie l'ANAS quando mi trovo vicino alle strade le ferrovie e quindi è un processo ad esempio che noi come sportello riusciamo a difficoltare poi voglio dire c'è Gian Barocco lì seduto che è il nostro referente e sa benissimo di cosa parlo le difficoltà che abbiamo per riuscire ad esempio a fare semplificazione so bypassare le autorizzazioni i pareri e chi fa applicare veramente fino all'ultima virgola le norme allora un processo forse di norme guardo i miei ex colleghi all'urbanistica qui vicino a me alla mia destra si era parlato tanti anni fa anche con la legge casa di introdurre diciamo dei principi diversi allora Manes all'inizio ha detto la regione Valle d'Aosta ha competenza primaria in materia di urbanistica secondo me ultimamente l'abbiamo perso molto questa competenza alla luce al di là dei modelli unici che conferenze stato-regioni hanno adottato ma quelli sono solo una rappresentazione cartacea delle norme quindi degli adempimenti ma col 380 eccetera agibilità vabbè mi fermo qui abbiamo perso molta competenza forse potremmo recuperarla un po' si era parlato di fare un regolamento di prestazioni forse una pagina sarebbe bello un po' poco non lo so la domanda è c'è la volontà si può arrivare di fronte anche allo Stato che sta per emanare o emanato un regolamento tipo nazionale tornare un po' indietro su tutto questo assetto normativo mostruoso dividere un po' di più di nuovo le competenze giudiziarie che sono quelle che oggi fanno le autorizzazioni di inizio alla fine perché poi siamo lì ogni pratica su due in quelle sedi che sono amministrative penali o di altro tipo ci sono anche altri oggi che stanno entrando in questo merito di questi processi ecco c'è una volontà secondo voi politica nazionale anche regionale per andare in questa direzione oppure va bene ne parliamo in queste sedi siamo tutti molto d'accordo poi questa mattina una mia collega ieri l'ho firmato una lettera di Dnieco giustamente mi ha fermato e ha detto ma perché mi hai dato questo Dnieco perché se poi adesso andiamo a vedere i motivi per cui abbiamo dovuto dare un Dnieco siamo veramente a parlare di forma e noi purtroppo oggi stiamo morendo di forma di formalismo non parliamo anticorruzione trasparenza privacy digitalizzazione e tutto quanto potranno star qui delle ore quindi ripeto la domanda è ci sarà mai questa volontà o siamo mai in una macchina che ci sta macinando e andiamo avanti così non so a chi la fai la domanda cioè a tutti il problema di fondo è cioè io sono amministratore comunale come ti ho detto anche tu forse lo sei stato nel senso come ho detto prima sarebbe stato molto semplice dire c'è il legislatore portiamo queste suggestioni sulla tavola del legislatore poi vediamo ma io non sono così negativo la volontà dipende da noi come ho detto prima cominciamo e hai citato lo sportello vituperato da tanti e da molti all'interno dello sportello stiamo facendo con grande fatica e grazie a a voi qui in sala c'è Dario Gianotti insieme a te siete i coordinatori tecnici dello sportello stiamo facendo dei passi avanti sulla semplificazione no? Deor prima dovevi presentare la domanda ogni anno adesso l'abbiamo superato stiamo facendo delle semplificazioni sui map ci stiamo occupando per il mese di gennaio dovremmo fare qualcosa ma sì vabbè ma non è fare marketing allo sportello perché non mi piace io penso che invece ci siano anche qui dentro le forze per guardare con positività all'esterno e per cercare di portare il nostro contributo perché si possano cambiare queste cose perché se continuiamo a piangerci addosso poi tutti i dati ci portano a piangerci addosso però io sono un inguaribile ottimista e quindi cerco di di guardare il bicchiere mezzo pieno non pieno mezzo pieno non vorremmo monopolizzare ma vorrei solo aggiungere una cosa sempre l'altro sportello ma verso i progettisti ecco si è parlato proprio di ridare centralità al progetto ecco si è parlato di opera pubblica che è esemplificativa ecco un certo strumento che è presente attivo ed è proprio tra l'altro gestito interamente nell'ambito della sfera comunale può essere rilanciato ecco forse il coraggio di fare ripensare a come vengono fatti i piani regolatori introducendo elementi progettuali lì dentro perché anche dalla nostra esperienza diciamo di chi controlla i progetti prima Luciano diceva abbiamo bisogno di confrontarci anche col soggetto che tra gli altri che abilita oggi il soggetto che guarda i progetti è soffocato da una quantità enorme di controlli da fare su anche minuti interventi con un quadro normativo complesso che soffoca spesso e rende anche a volte becero l'esame perché ci si ferma veramente su aspetti formali ecco ci bisogna sostanzialmente di fare di dare indicazioni più qualitative per gestire l'ordinario ecco sgombriamo facciamo concentrare questi esperti queste commissioni di lizi e questi soggetti che esamano i progetti su interventi significativi diamo maggiore contenuto progettuale al piano regolatore ai regolamenti di lizi in modo che chi ha bisogno di gestire l'ordinario abbia indicazioni più semplici e quei processi dal lato macchina amministrativa vengono gestiti molto velocemente facciamo invece concentrare questi soggetti lasciando qui più ampia libertà brutalizzo io ti do delle indicazioni se vuoi fare una cosa ordinaria falla così me lo dichiari e vai vuoi uscire da questo vuoi hai delle soluzioni vuoi progettare su questo ragioniamo ma sgombriamo l'attenzione sull'ordinario che va guidato e pilotato perché l'ordinario poi cambia il territorio ma se lo guidiamo a livello di strumenti di piano regolatore non con le distanze le altezze il rispetto ma con anche indicazioni di elementi qualitativi abbiamo anche stamattina abbiamo visto un patrimonio di ricerca amplissimo di conoscenze del territorio portiamo questa conoscenza dentro il piano regolatore è una sfida diamo delle indicazioni più coraggiose progettiamo il contesto urbano in modo che chi deve fare interventi semplici quotidiani trovi indicazioni chiare liberiamo la pubblica amministrazione da questo controllo e facciamola concentrare sulle scelte coraggiose su elementi di innovazione dove lì c'è tempo e modo di ragionare di più su questi interventi Luciano rispondi tu? più che una risposta mi sento di condividere questo tu hai centrato mi sembra Dario hai centrato bene il tema che stiamo sviluppando all'interno del Consiglio dell'Ordine attraverso riunioni attraverso le riflessioni fatte con il CELVA introdurre all'interno delle norme elementi qualitativi che ci permettano non l'ho detto prima e me ne sono dimenticato ma lo dico ora il progetto di architettura è un progetto di conoscenza secondo me quindi se riusciamo a fare in modo che il progetto diventi realmente lo strumento attraverso il quale è possibile far conoscere alle persone alla gente la qualità complessiva di cui è portatore probabilmente riusciamo a dare una risposta di miglioramento sicuro da un punto di vista paesaggistico dell'inserimento e a seguire gli elementi qualitativi devono essere effettivamente definiti ma significa modificare radicalmente la struttura dei nostri piani regolatori probabilmente il sistema della zonizzazione guardando cosa succede per esempio nel resto d'Europa appare essere superato cioè ci sono i piani regolatori per esempio francesi hanno una struttura progettuale cioè il piano è un progetto reale non è soltanto una pianificazione di aree e di risoluzioni di superfici che devono assolvere determinati requisiti e determinati standard ma identificano e individuano una traccia precisa di progetto cioè significa che per esempio nei nuovi insediamenti o di completamento le urbanizzazioni sono progettate non vengono lasciate al caso e alla soluzione da parte del cittadino c'è l'amministrazione che preventivamente ha individuato i criteri e le caratteristiche ha messo in discussione con un dibattito pubblico anche questi aspetti ma poi ogni cittadino ha la possibilità attraverso il proprio professionista di farsi fare un progetto integrato e qualificato attraverso tutta una serie di elementi che sono l'individuazione poi dell'ambiente urbano e delle caratteristiche urbane che dovrebbe avere il territorio ecco io l'ho detto prima lo voglio ribadire cioè quello che ci troviamo a cui ci troviamo di fronte oggi dal mio punto di vista è un'estrema frammentazione del territorio con episodi di io lo chiamo terreno funghetto terreno funghetto siamo messi in poi in questo modo dove non c'è coordinamento non c'è un'idea complessiva di struttura urbana e le costruzioni nuove soprattutto continuano a nascere in un modo assolutamente episodico e non attraverso un progetto attraverso un piano che ne individui le caratteristiche qualitative ecco altre domande i ragazzi al piano di sopra visto che sono giovani e che ci rivolgiamo anche a loro che impressioni avete che queste cose che avete visto che cosa vi stimolano perché effettivamente io penso che poi se c'è una domanda qui poi vi passo il microfono magari lassù al piano di sopra io credo che effettivamente come è stato detto c'è una questione anche culturale che parte proprio dai giovani perché effettivamente anche noi in tutto ciò se facciamo fatica a costruire dei riferimenti è anche responsabilità nostra e questo c'è poco da dire lo dobbiamo prendere in considerazione e e credo che far capire anche a nuove e giovani generazioni che magari saranno i progettisti di domani qual è l'importanza di quelle radici che abbiamo visto con Claudine Remakle e c'è e che quindi che da lì forse bisogna ripartire io ho visto recentemente c'erano dei giovani studenti della Val Gardena in Alto Adige che hanno proposto gli è stato chiesto che cosa volete cioè come potrebbe essere per voi la Val Gardena del futuro e c'è un ragazzo anche bravo nel suo genere che ha lavorato che si è laureato con Zadid ha lavorato un paio di anni da lei e ha fatto una cosa alla Zadid però una cosa che verrà effettivamente fuori scala terribile da un certo punto di vista per quanto seguisse quel linguaggio e quindi penso che far capire anche ai giovani a chi si confronta con il nostro lavoro che appunto potrà essere domani progettista questo deve essere un compito importante c'era una domanda qui? si nel frattempo mi sono già quasi dimenticata visto il colore dei capelli comunque volevo riallacciarmi a quello che diceva Luciano sulla questione dei pieni regolatori francesi facendo una piccolissima polemica rispetto alla mia esperienza pregressa quando ero amministratore in un comune con un sindaco peraltro illuminatissimo si stava discutendo della riforma del pieno regolatore l'ho supplicato in tutti i modi di mettere delle aree a PUD e non c'è stato verso altro che fare la pianificazione perché sei mica matto no? ogni valdostano deve potersi fare il suo funghetto come vuole e quindi da questa logica non se ne esce se non si cambia la mentalità il regolamento edilizio di una pagina sola funziona in società dove le persone si attengono a quello in una società dove se bocci un progetto viene fuori un putiferio umano e non semplicemente dire porca miseria rifaccio pazienza è inutile che continuiamo a parlarci di queste cose mi sembra veramente tempo perso capisco anche da parte dei sindaci la difficoltà di far passare certi certi nuovi paesaggi in senso figurato cioè nuovi scenari perché la gente è troppo abituata a ognuno curare il suo orticello con dentro il suo funghetto boh chiuso raccogliamo magari qualche altra domanda così poi facciamo buongiorno per chi non mi vede io sono Chantal Treve il dirigente dell'urbanistica mi sento chiamata in causa ormai da troppo tempo per cui è bene che faccia un piccolo intervento io ricordo Gambino che è stato colui che ha fatto il PTP e ha diretto tutti i lavori che sono durati troppo per fare il PTP però insomma hanno portato a un progetto e a un piano che ha una sua valenza che era assolutamente all'avanguardia quando è stato fatto e che comunque sta ancora in piedi anche se ha bisogno di restauri siamo tutti d'accordo e ci possiamo lavorare insieme comunque Gambino mi diceva sempre ricordati che il paesaggio è il frutto della vita della gente che ci è vissuta nel posto e che e la sua trasformazione è sempre frutto della modalità di vita della gente che ci vive allora tutte le case a funghetti e le dispersioni che noi abbiamo sul nostro territorio adesso è frutto di un modo non progettuale di vivere la propria vita che abbiamo avuto noi valdostani dal dopoguerra almeno a tutti gli anni 90 dandoci un po' di soddisfazione dicendo ma farsene 2000 qualche progettualità in più c'è stata e anche nei 90 ci abbiamo riflettuto però la cultura della concessione singola permesso di costruire singolo è una cultura che si è imposta e che è direttamente frutto della mentalità valdostana perché casa mia è anzitutto casa mia e nessuno ci deve venire a interferire e quindi l'idea che qualcuno mi venga a dire dove devo costruire il mio nuovo volume edilizio che finalmente posso fare perché sono uscita dalle stalle e dalla tristezza dei villaggi dalla povertà e dalla miseria del dopoguerra anzi del preguerra e del dopoguerra e allora mi insedio nel territorio intorno e grazie a Dio ci sono i paravalanghe che mi proteggono dalle calamità naturali cosa che prima non potevo fare non avevo grazie a Dio occupo un territorio che prima non mi potevo neanche permettere di pensare perché dovevo coltivarlo ed era il mio pane quotidiano e adesso no perché è arrivato il turismo e mi permette di vivere anche di altro e allora finalmente io occupo quel territorio lo voglio occupare come mi pare come voglio e non sei tu che mi vieni a dire no costruisci lì piuttosto che là quella è stata la mentalità di questi anni su cui dobbiamo riflettere io sono d'accordo che dobbiamo costruire insieme un sistema per semplificare tutto un apparato autorizzativo e sono d'accordo che in quanto autonomia possiamo fare dei ragionamenti diversi dallo Stato nazionale ma lo facciamo quando siamo convinti che le regole che ci diamo le seguiamo e non ci diamo una regola e poi cerchiamo il percorso per aggirarla questa è la mentalità che va cambiata perché altrimenti non riusciamo vivi sono solo parole per aria ci possiamo fare i nostri piani regolatori i nostri regolamenti edilizi con le tipologie con gli aspetti qualitativi e non solo quantitativi perché poi se sgarri di 40 cm non fai più niente ti vietano il progetto che sono assurdità sono d'accordo con voi ma lo facciamo quando quando effettivamente questa capacità di agire a seconda del caso è il frutto di una società che pensa a se stessa e che non e che non va così tanto per andare e non si sa dove se no in funzione che però aveva una sua degnità finalmente posso occupare il territorio che la natura mi ha sempre vietato di occupare adesso perché la domino ormai siamo in un momento lo dicevamo nei vari incontri che abbiamo fatto nel passato in cui questo concetto di finalmente io occupo il territorio che prima mi era vietato perché faccio paravalanghe tanto per dire non c'è più perché abbiamo capito che in realtà il territorio e l'ambiente naturale comunque continuano a condizionare il nostro vivere e il nostro essere e non solo ma capiamo perfettamente che il cibo non possiamo solo più prenderlo dall'esterno ma dobbiamo tornare a considerare la nostra attività agricola come effettivamente utile anche al sostettamento locale questo vuol dire considerare il territorio non insediato in modo totalmente diverso non è solo un prodotto turistico il paesaggio ma è anche un vivere una superficie un luogo che ci dà da vivere non solo in termini appunto mercantilistici ma anche direttamente primari ecco una volta che abbiamo capito questo forse che abbiamo capito che col cambiamento climatico ci sono delle cose che non governiamo a livello locale del nostro territorio forse a quel punto possiamo cominciare a pensare a delle regole davvero condivise a cui tutti si attengono e che potrebbero essere magari molto molto più agili detto questo voi conoscete il regolamento edilizio tipo nazionale il regolamento edilizio tipo nazionale è frutto di un'intesa tra Stato regioni e comuni che prevede un indice molto rigido e molto preciso a cui le regioni autonome grazie a un emendamento di Bolzano devo dire possono rispondere in modo molto più agile voglio dire tutto il resto d'Italia deve rispondere in termini con delle scadenze precise e adeguando di fatto i propri regolamenti edilizio a un indice definito poi danno i condelutti che vogliono perché siamo in Italia quindi un modo per muoversi c'è sempre noi invece come regioni autonome e province autonome possiamo adeguare questo regolamento edilizio tipo nazionale alla normativa nostra e questo lavoro noi lo stiamo facendo abbiamo iniziato a farlo e ha cominciato a condividerlo col CELVA e continueremo questo lavoro con tutti e non è finita questa è un'occasione visto che non abbiamo una scadenza precisa non ce lo impone l'intesa è un'occasione per lavorarci meglio e ben volentieri ma quello che diviene che il nostro futuro è il prodotto della mentalità che noi abbiamo adesso e della creatività che riusciamo a dare per il nostro futuro adesso grazie qualche altra domanda lassù nessuno osa allora buongiorno io mi chiamo Marco Maresca faccio il progettista e sono anche amministratore comunale da qualche anno nel comune di San Vensano io volevo riallacciarmi un po' al discorso di Genotti di Dario perché ho sentito parlare di centralità del progetto e su questo sono indubbiamente d'accordo del rapporto tra il progetto architettonico e i regolamenti e le norme tecniche e del rapporto tra il progetto e gli strumenti di pianificazione urbanistica secondo me c'è un po' di differenza nel senso che lo strumento di pianificazione urbanistica non so quanto determini la qualità del progetto a mio avviso persegue altri obiettivi cioè recupererà la sua funzione strumentale quando a Monte avremo chiari degli indirizzi politici di sviluppo del territorio quando avremo deciso che cosa vogliamo fare della Val d'Aosta in sede politica cioè se saremo agricoltori albergatori industriali anche in misura allora faremo dei buoni strumenti di pianificazione urbanistica e quello è un piano dall'altra parte ci vedo il discorso delle norme tecniche quindi dei regolamenti edilizie di queste cose quelle cose lì le abbiamo fatte noi in gran parte noi tecnici noi siamo amministratori siamo amministratori regionali siamo tecnici privati che scriviamo le norme le vediamo in commissione edilizia le abbiamo viste negli uffici regionali quindi forse qualche responsabilità e qualche margine in quel senso ce l'abbiamo probabilmente sull'aspetto tecnico della normativa basta che andiamo a cercare dentro cerchiamo di capire se dentro c'è ancora un architetto da qualche parte e allora la soluzione viene da sola se no la vedo un po' più difficile sull'idea che il piano regolatore possa contenere elementi qualitativi che possano indirizzare il progetto io ho qualche perplessità ma non per la qualità del piano perché a mio avviso ha un'altra finalità e perché ha altri tempi cioè il comune di San Ben San non ha ancora adeguato il piano regolatore al PTP cioè in che modo posso sperare oggi che lì dentro ci siano degli indirizzi progettuali che si muovono ai ritmi del mondo della società del mondo vero cioè vanno su due binari quindi forse ecco è un po' critico ma è un punto di vista diverso grazie altre domande vogliamo fare un cioè aggiungo due riflessioni così poi facciamo un un giro anche conclusivo a meno che non ci sia qualche altra domanda ancora effettivamente il cioè ci troviamo in una situazione che giustamente come diceva il collega ci siamo creati noi però siamo anche in un momento storico particolare magari poi mi dite voi nella in Val d'Aosta che succede in questo momento però io penso alle nostre realtà c'è stato un momento di cambiamento abbastanza radicale con questa con la crisi economica che insomma si è sentita ha influito e quella modalità automatica che noi avevamo di crescita continua che era una cosa quasi banale bastava nei piani regolatori aggiungere aree qualcuno costruiva qualcuno vendeva e qualcuno comprava molto semplice in questa fase invece c'è stato un freno almeno nelle realtà che conosco io e quindi questo porta anche è un'occasione forse anche per rivedere le dinamiche con cui abbiamo operato fino ad oggi e quindi forse anche a ripensare alle modalità di utilizzo del nostro territorio e quindi a rallentare forse quella corsa che non si sapeva dove ci stava portando e forse c'è appunto il tempo anche per capire insieme e questo è fondamentale importante quali sono le modalità pur sapendo che non ci sono ricette non ci sono automatismi non è una formula matematica che basta dire mettere gli ingredienti e la ricetta esce automatica ma su questo ovviamente c'è da lavorare e credo che insomma questo sia ciò che voi state facendo proporrei quindi magari vuoi iniziare tu come preferiamo a Luciano hai il microfono li abbiamo persi tutti ma io partirei da questo concetto dopo la tua sollecitazione quella di Marco Maresca che forse anche in parte condivisibile condivido ma uno dei temi forti che abbiamo sul campo è la rigenerazione va sotto il nome anche di rigenerazione urbana ma io come concetto lo estenderei in maniera più corposa all'intero territorio forse dobbiamo ripensare il sistema con il quale intervenire all'interno degli ambienti già costruiti che spesso hanno unità abitative completamente vuote lo abbiamo visto ieri sera Alberto passando in via Sant'Anselmo andando verso il tuo albergo dove ci sono palazzi interi completamente vuoti e degradati è ovvio che per adesso facevo un riferimento al centro storico ma è ovvio che per poter riqualificare questi fabbricati ridare energia a questi spazi è necessario fornirli di servizi adeguati quindi servizi adeguati voglio dire ovviamente negozi attività culturali e perché no parcheggi anche che sono purtroppo necessarie siamo ancora per un periodo una società probabilmente legata all'autoveicolo quindi malgrado ci siano spinte anche diverse in altri territori europei comunque questo purtroppo è una realtà dal mio punto di vista in questo momento abbastanza incontrovertibile quindi penso che strumenti per poter ripensare a tutti questi aspetti ci sono è ovvio che abbiamo una grande difficoltà nella frammentazione della proprietà all'interno soprattutto di ambiti come questi che per esempio in Alto Adige sono parzialmente risolti e che da noi quindi anche questi aspetti sono tutti temi dal mio punto di vista aperti e che vanno ripensati cioè la vita nel centro storico ha delle qualità sicuramente molto alte ma non parliamo solo di centro storico parliamo anche di aree esterne al centro parlando della città di Aosta e questo si può estenderlo probabilmente anche agli altri comuni della regione cioè ci sono ambiti dove forse ripensare complessivamente all'attività all'attività dei rapporti tra le persone alle attività culturali alla riqualificazione degli spazi urbani attraverso anche la promozione di confronti tra i cittadini sia un momento un momento importante e da ripensare insomma grazie sì grazie beh solo una considerazione beh non mi sembra che cioè i valdostani vivessero così male nei nostri villaggi cioè contestualizziamo anche questo aspetto edifici comuni ce n'erano rispondevano a esigenza del tempo le consorterie il forno poi siamo usciti dai villaggi e abbiamo occupato del territorio bene male se siamo qui e facciamo questa riflessione è perché è una riflessione che è nata dal basso e ci rendiamo conto che dobbiamo porci questo problema poi se vogliamo fare analisi come ho detto prima tutti gli strumenti ci fanno piangere ma allora l'Italia non si rispettano le regole questa è una è una ranghen che cominciamo anche da piccoli passi ma a guardare avanti quindi io penso che questo sia da mettere in conto e sia l'elemento positivo di questo incontro i PUD beh bell'argomento l'abbiamo messo nella carta di intenti dove fare delle riflessioni perché effettivamente il PUD può essere uno strumento ma deve essere uno strumento di pianificazione e di sviluppo non uno strumento per dire lì facciamo il PUD tanto così non costruiscono più perché c'è anche quell'aspetto allora poi i PUD la parcializzazione della proprietà e appunto torniamo a mettiamoci d'accordo discutiamo in Valle d'Aosta mettersi d'accordo e beh poi effettivamente io forse appunto siamo colleghi con Maresca diciamo cominciamo a fare qualcosa noi dei comuni poi vediamo e quindi questo è l'aspetto positivo ecco poi effettivamente la pianificazione deve essere una pianificazione più elitica di grande spettro PTP a metà però cerchiamo anche che i piani regolatori continuino questa pianificazione perché se no manca qualcosa poi poi si parla poi dobbiamo comunque dare delle soluzioni poi sono cose di cui abbiamo già parlato con alcuni di voi no meccanismi di compensazione più facili a dirsi che a farsi no però regolamenti edilizia ecco cioè io quello che che dico penso che abbiamo gli strumenti per fare qualcosa di positivo cominciamo però da noi non aspettiamo sempre che ci sia qualcuno che fa qualcosa per noi allora perché se no qui ad aspettare il tempo passa e oggi non abbiamo parlato di una cosa il mercato l'economia ci sorpassa cioè se noi non ci pensiamo regole o non regole ecco l'altra cosa che non ne abbiamo parlato l'esigenza tempo il tempo è una risorsa scarsa non infinita cioè infinita sì filosoficamente per ognuno di noi è una risorsa scarsa e quindi anche la pianificazione deve essere inserita in questo contesto volevo chiedere a Claudine Remachner così per chiudere ritornando alle origini in che modo insomma questo patrimonio può essere ancora insegnamento e come lo possiamo usare se è una questione di misura di equilibrio delle cose che noi introduciamo io penso che a me mi è stato insegnato in architettura che dove un uomo ha vissuto un altro uomo può vivere e questo è una linea molto importante secondo me le norme stanno creando proprio come delle prigioni al progettista che non arriva più a trovare la soluzione in relazione all'edificio che deve trattare allora io mi sono meravigliata quando ho sentito parlare di una paginetta per le norme edilizie in Austria qualcuno ha detto ma in Valido è impossibile perché sono egoista pensa solo a sé alla sua particella sono maleducati in un certo modo non vivono la collettività però io penso che non dobbiamo assolutamente pensare così male di noi io se no non avremo più tendenza a vivere le cose in comune e malgrado tutto penso che le collettività esistono ci sono figli vanno a scuola si incontrano tra genitori si parla e si può anche pensare in un modo più positivo questa paginetta austriaca sarei curioso di sapere che cosa conteneva la recuperiamo bene se non ci sono altre domande con questa sì c'è una domanda ancora prego allora più che una domanda è una considerazione io sono un insegnante che ha accompagnato i ragazzi che prima erano sopra vi ringraziamo perché ci avete dato la possibilità di partecipare a questo incontro sicuramente interessante avete dato anche la possibilità ai ragazzi di fare domande ma loro erano presi in un forte imbarazzo e poi non sono neanche preparati nel senso che questo è stato un momento di approccio noi in classe non abbiamo mai parlato di problemi di questo genere e di conseguenza non se la sentivano proprio di esporsi io non faccio una domanda faccio solo una considerazione da insegnante abbiamo a che fare con dei ragazzi che hanno una scarsa conoscenza del territorio cioè non sanno proprio dove abitano una delle prime gite scolastiche che io faccio e di portarle in giro per Aosta tanto per capirci questo dà l'idea che veramente crearsi una mentalità di progettazione non è una cosa molto semplice e questi magari in futuro alcuni di questi saranno dei progettisti quindi è una cosa che noi dobbiamo costruire poco alla volta rispetto alle soluzioni date di innovazione di contemporaneità in situazioni montane loro per esempio si esprimono sempre in modo molto tradizionalista e io intendo per tradizionalista in modo molto conservatore fanno veramente fatica ad accettare che in montagna si possa costruire seguendo utilizzando materiali innovativi o conforme che non sono quelle che sono loro note noi ci aspettiamo che i ragazzi cerchino l'innovazione non è vero in generale i ragazzi sono molto molto legati alla tradizione quindi il lavoro che facciamo noi come insegnanti è quello di portarli verso la conoscenza prima di tutto del territorio più vicino che vuol dire la città di Aosta fondamentalmente poi pian piano verso un territorio più esteso far vedere loro quelle che sono soluzioni innovative che si realizzano in tutto il mondo e solo così possiamo pensare di tirarli fuori da questa situazione un po' confortante dalla quale sembrano fare proprio fatica ad uscire ecco questo è per spiegare perché c'è questa difficoltà nell'intervenire nel porre domande perché loro non si pongono queste domande per loro in montagna si costruisce normalmente con il tetto a falde pietra legno e se assomiglia alla casetta della nonna sono un pochino più tranquilla al di là di quello non riescono a vedere soluzioni io vi ringrazio ancora e buon proseguimento grazie grazie altre domande interventi allora possiamo concludere effettivamente è vero l'ho visto anche nella mia esperienza così didattica che ho avuto che ci sono delle resistenze proprio da parte di chi ti aspetteresti che invece spinge sull'innovazione e c'è il rischio con i sistemi informatici molto veloci che abbiamo oggi di vedere cose magari poi solo nella superficie senza poi riuscire a conoscere quindi penso che sia importante il lavoro che state facendo proprio per fargli scoprire le cose che hanno davanti al naso e cosa che ritengo importante in tutto questo processo di tentativi di individuare una modalità per percorrere una strada che sia corretta che possa portarci ad un ambiente migliore ad un rapporto migliore con il nostro contesto gli esempi che abbiamo visto e la promozione che cerchiamo di fare anche di questi esempi credo sia importante i 22 progetti che vi ho fatto vedere della rassegna di scrittura colpino ovviamente non li ho scelti io li ho scelti in una commissione pur mantenendo propria quella soggettività come ricordavi che uno può dire questa sedia mi piace o non mi piace però ok questo va bene rimane nella tua soggettività di singola persona però se c'è qualcuno autorevole qualcuno che o più persone che dicono che questa è una sedia se è comoda me ne accorgo ma se ha una sua qualità allora forse iniziamo a dire iniziamo a fissare dei paletti e dire ok allora quegli esempi sono esempi positivi che possiamo perseguire questo credo sia forse una delle poche certezze che abbiamo da trasmettere grazie 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 a tutti